Ciao a tutti ragazzi e grazie al vostro GQC Un nuovo video dove andremo a fare le reazioni Alle mie animazioni di BruneStars Ho detto una cagata Comunque Speriamo non mi mettono niente di brutto Comunque, iniziamo Ok Ok, perfetto Showdown of Ka Il gadget Comunque, raga, sto riuscendo anche a recuperare L'account Devo stare provando Ok, quindi muore Danna, Mike Nita contro E però usa il gadget Ok 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 Ah, ho usato Il gadget Da vicino non fa niente ovviamente Ha usato il gadget Quello che rallenta Ma cosa Succina Un po Forza Succina Oh no Ragazzi scusate se sono un po' capo ma Sono distrutto Ha usato quello che è lontana E la bomba della pulse Grande Succina Succina Io sto da cane in questione C'ho raffreddo E' morto E' avanti Questo è semino Vabbè Mi sembra l'unico normato Ah perché da vicino ovviamente non fa niente Troni Ok Ok, double kill Trotta Jakey Contro Penny Però c'è il totem di Bo Sto pensando Molto furbo Bella Ok, sono dita contro il primo Che schifo Bello Oh no Oh no Ora sapevo metàrla Ah 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 Più Atta Ah Oh E quindi chi è il primo E quindi chi è il primo Noo Il funcino che Allora, non ci ho capito molto C'è però molto bella Passiamo ad un'altra Ok, seconda animazione Si chiama Bea Contro il primo ok però un po di più e fa il pugile però va disturbando la dea ok ok ah no è cattiveria forza bea un video nei commenti che vostro profitto anche lasciando un like oh no tutto bene tutto bene e bea si è incavolata qua sbagliato pure perchè bea ha solo un colpo tra l'altro siamo quasi elevati 300 iscritti quindi mi raccomando ok evoca le api ok fino adesso e dorme ok mi sembra giusto sono incavolate le vespe over il primo pronto ok mi stava oh arriva carletto non è una mega cassa no dai ok ok no ma poverine ok ok povera ma perchè ok ok c'è un vortice credo che sia quello della di un evento tipo rapina o raffajem sono in un'arena ma che figo ci sono emz bel c'è c'è sandism8bit bowl eugenio ed iess non sto capendo se qualcuno ne ho capito scrivevelo me lo scriva non ho capito che forza non è così così bravo è il primo è 8 bit a saltare se ci senti che è un criceto demoniaco c'è un fungo il fungo no ma c'è una curiosità arriva ragazzi è chiaro che sia tipo showdown probabilmente tipo di locura in teoria bull dovrebbe morire questo qua è la mia gessi ah è un genio oh voglia oh oh sta calmo no povera di essi emz emz è il mio brodo preferito beh da vicino è molto ma con il poverissimo è questa cosa da vicino non è forte emz mi scappa ok no aveva il coso gliel'hanno tolto ah ho usato la ulti hai vinto sei così arrivo ragazzi sono stupido perché ho reagito senza di voi sono stupido andiamo avanti tu quello ho già visto io sto pezzo ma io sono stupido qua c'è la nostra principessa e l'altra parte c'è il nostro mortis ok oh my e lì c'è sopra Ringo Fabdul ok sembra giusto scappare ragazzi sotto nei commenti hashtag ring of gdul ok scusate arrivano però i tre eroi non stecca e gli altri due ok adesso arriva stecca fortissimo e fa una cosa un po' stra da quando stecca dei pugni anche da quando stecca cadà addosso alla gente manca fosse il primo qui arrivano i pipistrelli e lo portano mi sembra giusto perché nel gioco infatti pipistrelli di mortis portano in cielo i tizi mi sembra giusto ok si potenziano questi due e lo portano adesso li butta addosso i cosi ma c'è e si trasformano magicamente perché è così vero nel gioco è così ok quindi mettono in sfuga il tipo e vincono perfetto sono tutti felici non si sa perché però siamo tutti felici abbiamo un corvo lì mecha notturno e una rosa e una tara credo che bello corvo mecha cosa hanno visto bella il corvo non l'ha capito tanto il corvo ma chi è ma corvo che figo corvo aveva fatta molto bene corvo sembra più tipo un disegno in un certo senso ok si potenzia rosa con lo scudo fa il jump corvo in the face ma rimbalza vediamo un po' cosa succede ok altro jump di corvo laser ha male vediamo un po' se muore ok muore eee che bello è morta rosa manca tra i due mi sa e arriva spike cono gelato bene e poi si chiamerà spike corvo anzi spike zucchero filato eh che bisogna farci raga sono finite qui le animazioni molto belle molto divertenti molto tutto il canale si chiama team animation un bel canale mi raccomando lasciate like campagna e ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao